Farci qual è il libro che manca poi di... ...ma potete raggiungerci anche attraverso il numero 06 3 7 0 1 4 5 0 a cui risponde una segreteria telefonica dedicata oppure anche scrivendoci all'indirizzo fare con la calcentro chiocciolaarai.it questo che giunge adesso un po' il momento nel pomeriggio di Farenet in cui tutti si chiedono ma quale sarà il grande album che ci terrà compagnia che potremo ascoltare nel corso dell'intera settimana il sempreverde o evergreen diciamolo in italiano o in inglese come preferite che accompagna la settimana di Farenet grazie al lavoro di Radio 3 Musica beh, soddisfiamolo subito questa qualità tocca...